È un'edizione tutta femminile, quella del 2013, del premio per il cinema e il teatro Sorrelle Grammatica, il tempo perduto e ritrovato. Quest'anno le vincitrici per le due categorie sono due donne d'eccezione. Margherita Bui, poliedrica attrice del cinema e del teatro italiano, che ricordiamo al fianco di Carlo Verdone in Maledetto il giorno che ti ho incontrato, e Silvia Paoli, attrice, regista e autrice teatrale fiorentina, che riceverà il premio Giovani Talenti. L'evento, patrocinato dalla regione toscana, è stato presentato dal consigliere regionale Paolo Bambagioni. Quest'anno il premio Sorrelle Grammatica viene dedicato a Margherita Bui, che è un'attrice affermatissima, ha vinto 5 Davide e Dioratello. Rientra in una tradizione, appunto, quello di ricordare queste famose sorelle grammatica, che per un periodo della loro vita hanno vissuto a signa, che sono tuttora sepolte nel cimitero monumentale di signa. Il Comune, giustamente, ha ritenuto di ricordare la memoria di queste importanti attrici, dando questo riconoscimento sia a un'attrice affermata che a un'attrice emergente. Arrivato alla sua undicesima edizione, il premio anche quest'anno cerca di valorizzare la tradizione fiorentina della cultura e dello spettacolo nel nome delle sorelle grammatica, attrici teatrali legate alla città di Signa. Non solo, ma avrà anche un valore di solidarietà. Infatti, il ricavato della serata di premiazione sarà devoluto in beneficenza all'associazione Pollicino Onlus.